benvenuti in questa guida top 7 idropulitrici di consiglio pro tra questi sette abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo makita hw 1300 verticale questa idropulitrice makita è una scelta eccellente per le pulizie di casa ha una potenza di 1800 watt e 420 l di capacità rendendola una delle più potenti sul mercato il design verticale è comodo da usare e la maniglia ergonomica offre una presa sicura punteggio 76 punti info in descrizione sesta posizione al sesto posto troviamo cecotec idropulitrice ad alta pressione questa idropulitrice è una vera e propria boccata d'aria fresca ha una potenza di 1600 watt 135 bar di pressione massima pompa in alluminio e raggio d'azione di 14 metri ideale per la casa il giardino o l'auto è un prodotto di qualità che offre risultati eccellenti punteggio 75 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo bosch home and garden easy acquatac questa idropulitrice bosch è un prodotto di qualità eccellente ha una potenza di 1300 watt una pressione di 110 bar e un design compatto è facile da usare e ha una buona portata d'acqua la pulizia è veloce ed efficace ottimo acquisto punteggio 80 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare bosch home and garden universal questa idropulitrice bosch è un prodotto eccellente ha una potenza di 1900 watt 135 bar di pressione e un design compatto è facile da usare e ha una buona portata d'acqua la qualità dei materiali è ottima e la pulizia è veloce ed efficace ottimo acquisto punteggio 90 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo lavoro idropulitrice galaxy 160 2500 questa idropulitrice galaxy 160 è una soluzione eccellente per la pulizia di superfici esterne ha una potenza di 2500 watt 160 bar di pressione massima e 510 litri ora di portata massima include una spazzola fissa una spazzola rotante un lavapazio punteggio 89 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo cecotec idropulitrice ad alta pressione l'idropulitrice idropulitrice idropulitrice 2400 advance clean di cecotec è un prodotto eccellente ha una portata massima di 480 l per ora 180 bar di pressione massima e una pompa in alluminio il raggio d'azione di 14 metri è perfetto per pulire casa giardino o auto ottimo acquisto punteggio 92 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica black decker idropulitrice ad alta pressione questa idropulitrice black e decker è un prodotto eccellente ha una potenza di 1500 watt 120 bar e 390 l per ora che la rendono molto potente il patio cleaner e la spazzola fissa sono molto utili per pulire superfici più grandi è facile da usare e ha una buona durata punteggio 94 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace iscriverti al canale